Radio Vella Music Festival, siamo con Roberto Colella che rappresenta il gruppo La Maschera. Da dove venite? Da Villaricca, dall'Interland Nord-Est in Napoli. Un saluto a tutti quanti, guaiù. Il vostro gruppo da quante persone è formato? È formato da 5 persone ed è nato nella primavera dell'anno scorso, quindi del 2003, diciamo un gruppo abbastanza giovane. C'era questo desiderio di unire questa musica alla parte teatrale, quindi al teatro antico napoletano e al dialetto napoletano, soprattutto, cercando di dare una rilevanza ai testi. L'età media? L'età media è 23-24, abbiamo il chitarrista che abbassa l'età media che ha 20 anni. Benissimo, qual è la particolarità del vostro gruppo? Guarda, non te lo so dire, io spero che magari l'energia è quello che vorremmo portare, oppure l'allegria, che spesso manca, spesso si suona troppo impostati, a noi piace essere abbastanza sciatti in quello che facciamo. E una cosa che mi viene in mente, ad esempio, è il disco che sta per uscire, si chiama Vicle Lalleria. A noi piace creare queste immagini di questi luoghi che non esistono spesso e volentieri, però in cui noi crediamo fermamente, quindi speriamo di portare un messaggio di speranza attraverso i testi, magari. Ok, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona serata. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao!